Show with the Devil è il secondo album in studio dei Motley Crew, pubblicato nel settembre dell'83. Viene inizialmente pubblicato con la Lettera Record e in tempi più recenti, se non erro nel 2003, viene ristampato con la Motley Record. Quest'album vince ben 4 dischi di platino e la critica considera quest'album appunto l'album più metal di tutta la discografia dei Motley. Questa è la copertina, questo è il retro ed è un album apribile e si presenta in questo modo. Ed è forse qua inizia a essere proprio molto più glam anche il look dei componenti dei Motley e vi consiglio di ascoltarlo se non l'avete mai ascoltato.